Il Taranto è a oggi un cantiere aperto, nessuna ufficialità ma tante le trattative prossime alla conclusione che di riflesso necessitano soltanto di essere legittimate. Tra i tanti nomi circolati nel corso delle ultime ore è quello di Andrea Saraniti a stuzzicare le fantasie di proprietà e tifoseria. Classe 88, la prima punta nativa di Palermo, è ancora legata ad un altro anno di contratto con il club rosa-nero. Il Taranto auspica in una recessione tra le parti per poter potentare l'affondo decisivo quando l'atleta, già in Puglia con le casacche di Lecce e Francavilla, avrà lo status di svincolato. Trattativa comunque difficile ma non impossibile. Tra le ufficialità imminenti, oltre ai rinnovi di Monterbino e la terza, vi sono anche quelle di alcuni atleti. I centrocampisti Longo, ex Lavello e Labriola, di proprietà del Napoli da cui giungerebbe in prestito, dovrebbero essere i primi due innesti. Tra i riconfermati invece, in dirittura del Rivoli, affari Cekowski, Ferrara e Berzienti. Buone chance di rivedere in rosso-blu anche Guastamacchia e Falcone, mentre resta in stand-by la pista Marzili. Il capitano ha tanto mercato, soprattutto in Serie D. Calde, in particolare, le attenzioni nei suoi confronti da parte di Cerignola e Arezzo. Calde, in particolare, le attenzioni nei suoi confronti da parte di Cerignola e Arezzo.